le macchinine colorate il carburante in testa la macchinina arancione affrontano la seconda curva p-stop per la macchina viola veloce fa rifornimento e torna in pista si trova all'ultimo posto ma p-stop anche per la macchina arancione ehi attenzione il distributore ha finito il carburante ciao macchinine colorate è finito il carburante potete fare qualcosa bene facciamo in fretta o si ferma la gara ma in fretta cosa ma che cosa facciamo siamo in un cantiere elmetto e già il camion da cava non ha l'elmetto è pericoloso in un cantiere ma noi qui che cosa facciamo ecco grazie scavatore usciamo dal cantiere e via l'elmetto ma che veicolo ha preso la macchinina blu ehi aspetta l'autobus ha perso il palloncino e chi può prenderlo lassù buona idea il camion dei pompieri con la grande scala palloncino recuperato grazie camion gru ma noi abbiamo qualcosa da costruire paraurti fari e luci il parco giochi evviva vogliamo andare sull'ottovolante e poi c'è la ruota andiamo macchinina rossa facciamoci i gonfiabili andiamo 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 una cabina e un serbatoio torneremo sui gonfiabili un bel tuffo nella vasca di palline non ce lo toglie nessuno cisterna e paraurti tra voi bambini qualcuno ha capito cosa stiamo a assemblando chi ha detto camion cisterna si un camion per portare il carburante assembliamo il telaio e le ruote cabina e serbatoio carburante la cisterna del carburante e i paraurti parafanghi fari e luci il camion cisterna per il trasporto del carburante è pronto riforniamo il distributore la gara continua e anche la macchinina nera fa il pieno e velocemente torna in pista ma ormai siamo al traguardo prima la macchinina arancione seconda la nera e terza l'arancione alla prossima gara ciao amici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti